Uomini e donne. Arrivano le prime notizie dalla villa dove Teresa Langella ha trascorso dei giorni insieme ai due corteggiatori Manca veramente poco alla scelta dell'atronista napoletana. Il 15 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 l'epilogo del suo tormentato percorso nel dating show di Maria De Filippi ed in rete già impazza il gossip Le foto in villa di Teresa Langella insieme ai suoi corteggiatori.Maria De Filippi, mesi fa, ha annunciato una grande novità riguardante uno dei suoi programmi di successo Per la prima volta, Uomini e donne andrà in onda in prima serata su Canale 5. La prima scelta che sarà trasmessa sul piccolo schermo è quella dell'atronista napoletana, Teresa Langella Il percorso dell'atronista, di origini napoletana, non è stato tutte rose e fiori all'interno del programma Molti sono stati i ragazzi che sono scesi per lei, ma solo due persone hanno catturato l'attenzione di Teresa, Antonio e Andrea, quest'ultimo ha dovuto faticare molto per corteggiarla Il motivo? Inizialmente, il corteggiatore era sceso per Mara Fasone, la quale dopo poco ha abbandonato gli studi televisivi perché non era pronta per conoscere altri uomini dopo la rottura della sua storia d'amore durata anni I due ragazzi, con una serie di gesti e parole, sono riusciti a ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dell'atronista, ma quale sarà la scelta di Teresa? Le foto pubblicate su Instagram. La pagina di Instagram di Spettacoli News ha condiviso foto riguardanti i giorni in villa dell'atronista napoletana Secondo le ultime indiscrezioni, probabilmente Teresa Langella ha scelto Antonio, anche se è noto che la cantante ha una forte attrazione nei confronti di Andrea Le foto pubblicate su Instagram la ritraggono sia con Antonio che con Andrea. In una di queste compare l'atronista che abbraccia una donna, chissà forse sarà la mamma di uno dei ragazzi Chi tra i due corteggiatori avrà la meglio? Lo scopriremo tra qualche giorno. Non perdetevi l'appuntamento di venerdì prossimo su Canale 5 Chi tra i due corteggiatori avrà la meglio?